e ragazzi come va io sono ferini e io sono stef e questo oggi giocheriamo a youtubers live e andiamo subito a salutare i nostri sei eroi del giorno che per oggi sono shadowalter anna irochan anthony sindy cute e siria ciao ragazzi grazie mille per la condivisione e vi ricordiamo che anche nell'outro saluteremo altri sei eroi e possiamo iniziare allora io ti devo dire subito una cosa importantissima sono arrabbiatissima perché armani c'è stato portato via voi siete arrabbiatissimi quindi oggi faremo di tutto per riprendercelo non può vincere testa questa guerra non può sono pienamente d'accordo con te perché armani era carino ormai faceva parte della crew parte della casa e non si merita di stare nelle grinfie di quella strega che lo tortura secondo me che l'obbliga a fare giochi che non gli piacciono non lo fa ballare in casa quindi non si merita tutto questo sicuramente non lo fa ballare in casa perché solo nella nostra casa si può ballare e a proposito di casa ok per riprenderci armani dovremmo fare un passo importantissimo ovvero cambiare casa perché come ben vedi non c'è la postazione per lui e non voglio licenziare la gemella di testa esatto per ora la dobbiamo tenere in ostaggio è un ottimo ostaggio quindi ce la teniamo è il nostro ostaggio principale quindi non la possiamo mandare via infatti siamo in un posto strategico per un grattacielo perché è difficile attaccarci perché c'è solo una porta capito quindi non può recuperarla esatto però abbiamo un problema per cambiare casa guarda un pochettino per ora è grigio secondo me dobbiamo arrivare a un milione di iscritti e siamo a 655 mila quindi ci vuole un po' anche secondo me anche secondo me perché allora i soldi li abbiamo sì assolutamente neanche troppi non mi sembra che ci siano particolari richieste per trasferirsi quindi l'unica cosa che manca secondo me è l'obiettivo del canale magari in quel palazzo ti fanno entrare solo se sei uno youtuber importante esatto magari che è una villa prestigiosa per youtuber non so dove dovrebbero esistere facciamo finta che sia così nel mondo di youtubers life esiste va bene quindi devi diventare uno youtuber quindi dobbiamo arrivare a un milione di iscritti io comunque ho anche una teoria del perché armani ci ha abbandonato ok ok questa è una cosa importante perché dobbiamo capire quali sono i problemi per non perderlo allora non può aver fatto tutto testa cioè certo che è perfida ma secondo me non è solo colpa sua secondo me è colpa del fatto che aveva un pc davvero terribile cioè non gli apriva nessun gioco io l'ho sentito lamentarsi dicendo che non riusciva ad aprire nemmeno tetris con quel computer e il che è in tutto dire nemmeno il solitario capito non riusciva a giocare proprio a nulla quindi secondo me si è fatto convincere anche per questo motivo ok ho capito per evitare che ci vengano rubati gli altri collaboratori nel mentre ok andremo a migliorare tutte le postazioni e sono felicissima perché mi piace troppo comprare lo so che ti piace troppo soprattutto le cose del pc però facciamo con ordine dobbiamo metterli a registrare video perché stiamo già perdendo iscritti è un nostro obiettivo comunque è fare un milione quindi mettiamo ervin e la gemella di testa a lavorare e noi facciamo shopping infatti io la chiamo la gemella di testa lasciami in pace è un bellissimo nome non ti lascio in pace devi imparare nomi perché se noi non li prendiamo bene si fanno corrompere da testa di nuovo e su questo ti do ragione allora ok io direi di comprargli i componenti più belli in assoluto proprio i migliori che ci sono noi siamo ricchi abbiamo 13 mila dollari anche io sono d'accordo li facciamo il pc bello quanto il nostro più bello del nostro anzi guarda addirittura sono felicissimi così sono felicissimi guarda la super gaming fighter ki che bella la vorrei anch'io sembra quasi d'oro il loro massiccio sembra che luccichi è bellissimo triplo monitor anche per ervin sarà felice di questa cosa l'alien e o mouse questo è bello sembra uscita da tron guarda che belle le loro postazioni sono fantastiche c'è la tastiera è la cosa più figa secondo me è bellissima nella sua tamarraggine è bellissima guarda dovranno essere felicissimo la vorrei io ho così una postazione vero è bellissima bellissima sono figa entrambi subito a fare video esattamente perché ora finalmente certo a rendirizzare ci metteranno pochissimo saranno felicissimi di avere dei pc così belli e quindi faranno dei video meravigliosi e ci porteranno tantissimi soldi ed iscritti soprattutto soprattutto siamo a 700 mila guarda guarda hanno le postazioni che sono tre punti migliori delle nostre addirittura meglio di così non si può e adesso voglio fare shopping anche per noi lo so c'è una cosa qualcosa anche per c'è una cosa che non abbiamo mai comprato e che secondo me può essere molto bellino adesso ti faccio vedere abbiamo il pc rotto pure lo so sto cercando di far finta di nulla dovremmo forse aggiornare anche la nostra di postazione così mi apre soltanto questo dobbiamo per forza riparare il pc scusami un attimo apple o phone 600 dollari 600 dollari l'iphone scusami secondo te ma poi l'hai visto lo strawberry che sarebbe il blackberry quello vecchissimo quello che non si spaccava in nessun modo ma ancora lanciandolo da un grattacielo come il nostro ma poi è quello che abbiamo noi no perché ce l'ho segno acquistato per il nostro sembra uno smartphone non capisco no 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 secondo me è proprio quello scusaci diana dobbiamo comprare l'apple è un momento importante l'iphone perché così siamo dei veri youtuber ci accetteranno nel palazzo sono troppo curioso cioè adesso quindi cambia la schermata qua in basso a destra e credo di sì certo cambierà per forza lo spero perlomeno sarebbe una figata se cambiasse sarebbe fighissimo tra quanto ci arriva sta arrivando sta arrivando sto pubblicando i due nuovi video dai muoviti a pubblicarti e rimane diana guarda che belli sono ormai sono bravissimi non è diana asaria non ce la fai non ce la fai ok ho dovuto pagare 100 dollari perché ci avevano hackerato il social network sei pronta? sì cellulare che carino e quindi? non cambiano ok il tuo nuovo dispositivo è qui da ora in poi sarai capace di scattare selfie con il tuo nuovo telefono e condividerli sul social network facciamoci un selfie ti prego con diana con diana allora ok vedi? accendi la fotocamera sono troppo emozionata è troppo bella questa cosa che è questa cosa? vedi è la fotocamera ma non è un selfie oh che bella faccina è troppo carino allora scatta la foto e la pubblichiamo ok guarda questo selfie è venuto proprio bene pubblica pubblica tutti dicono che cosa perché abbiamo i messaggi di tessa? perché cos'è questa diavoleria? è un social vedi cei sono tutti vedi c'è pure la zaria come va? gustavo chiamami qualche giorno se hai voglia ma che sono queste cose? e quindi a zaria è interessata a gustavo daiana che scrive annabella sei incredibile non sappiamo chi sia annabella però deve essere la sua migliore amica guarda 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 5 ore da aspettare il proprio turno per comprare fail ball sarebbe fail ball e sono completamente deluso vedi non è felice Armani sappiamo che Armani non è felice questo è un bene si sta lamentando nei social come fanno tutti non è felice sai cos'è? cos'è? che tessa lo manda a comprare i giochi mentre noi li compravamo e quindi di questa cosa non è per niente felice e guarda l'hanno lasciato tantissime ore da aspettare il gioco esatto era triste guarda è una buona notizia perché sappiamo che almeno dove adesso è infelice e quindi potrà essere sai cosa possiamo provare a fare allora? più propensi a tornare con noi cosa? possiamo provare a parlarci possiamo provare a parlarci rimaniamo un messaggio? sì vediamo sì 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 mi piace allora dato che abbiamo notato che non è per niente contento magari accetterà di di parlare con noi esattamente eh lì giù eh sì c'è un attimino ok ho voglia di stare sola la nostra relazione non potrebbe andare peggio eh l'abbiamo notata non è andato per niente bene il nostro tentativo di conversare con Armani ci odia ok è il momento di collaborare Return of the Spellunking Spellunking è il gioco perfetto dai 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 che sono troppo belle le collaborazioni lo facciamo nel computer di Erwin sì che è meglio del nostro sì è più bello del nostro quindi va bene bidirezionale ok perché sono in due penso sia giusto così lo facciamo addirittura in due k potranno contare i nei delle nostre facce cioè la qualità qua è proprio altissima altissima dai Erwin vieni dai 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 ragazzi dovete fare un bellissimo video questo video deve essere perfetto perché ci deve portare tantissimi iscritti ok allora inizia a registrare hanno cambiato di nuovo le faccine oh mio dio in tutto questo ci siamo dimenticati di dire che il gioco è in italiano non so come abbiamo fatto a dimenticarcelo però sì è il gioco in italiano ragazzi il bello siamo due ore che leggiamo in italiano è il bello che abbiamo detto anche facciamo notare all'inizio video che hanno fatto l'aggiornamento in italiano ufficiale esatto perché è proprio ufficiale fatto dai creatori del gioco e ce ne siamo dimenticati comunque il gioco è in italiano sì e ci sono delle nuove faccine guarda 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 allora queste secondo te sono energie negative sì sì ok quindi schermata di caricamento interattiva proviamo un commento filosofico ok mi sembra che ci possa stare bene no no è un pareggio cioè non scende ma non migliora quindi abbiamo sbagliato qualcuno ti ha ucciso all'improvviso urlo con rabbia ne sono sicuro è perfetto funziona secondo me è perfetto e infatti guarda vedi quando c'è da urlare siamo bravi guarda l'interesse di questo video fare le collaborazioni è una cosa incredibile siamo saliti di livello in tutto mamma mia ha pagato bene spero che ci porterà anche tanti tanti iscritti che al momento è la cosa più importante sono felicissima esatto andiamo a dormire così passa più in fretta il rendering e l'upload e poi mettiamo a registrare tantissimo sia la sorella di Tessa gemella sorella Zaria Zaria non ce la fai ricordarla no non ce la faccio non ce la faccio e anche Erwin Erwin me lo ricordo testa a due testa a due posso me lo permetti ha senso tanto non te lo ricordi mai altrimenti sai cosa faccio visto che compriamo ormai un sacco di cose belle mi faccio una scorta di pizze una scorta di pizze buonissime quanto vuoi spendere 105 100 dollari di pizza esatto poi un po' di hamburger qualche insalatina due coca cole 136 dollari costa la roba da mangiare costa davvero tanto bisognebbe lamentarsi nei social che costano troppo così facciamo un selfie lo scriviamo il cibo costa troppo mentre mangiamo la pizza esatto esatto ok ragazzi siamo a 835.000 iscritti manca poco io ho un'idea spendiamo un sacco di soldi per promuovere tutti i nostri video ma costa tantissimo non so però così aumentiamo le views e gli iscritti e facciamo registrare tutti a ruota quindi vai anche a serie niki nuovo video tutti a palla guarda è la maratona fino a un milione di iscritti non ci fermeremo a dormire fino a quando non ce la facciamo quindi senza mangiare senza dormire esatto che non raggiunge il milione brava concentrata qua vedi direzionale eri subito distratta non lo stavi cambiando ma sei tu che giochi colpa tua sei tu che è il mouse hai letto il nome del gioco no hip hop office bellissimo hip hop office si 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 ok si balla o no non lo so sembra un gioco triste però hip hop saluto danzante e per forza e non ci dà punti guarda io ti giuro che non capirò mai come funziona caricamento con aviso quindi qua tu devi fare un commento corto dici perché l'aviso dura poco no va bene allora lasciamo perdere lasciamo perdere cerca di fare del tuo meglio puzzle ingegni questo spim oh yes eh io la smetto ti ignoro ti ignoro dai non ti seguo più prova da zaccano tu schermata di caricamento commento sarcastico ok sarcastico assolutamente no ho sbagliato dai riprova gioco normale gioco normale critica divertente ok oeeh ce l'ho fatta totalmente a fortuna no era giusto ci stava bene non è fortuna aspetta qua però ci sta dicendo guarda vedi che c'è l'iconcina ma ogni volta che registriamo un video notiamo cose nuove noi ti vorrei far ma credo che sia un suggerimento che ti dà ogni tanto aspetta aspetti di qua non ce l'ho d'altro giurimento forse perché adesso sono questi due che vanno bene vediamo non lo so guarda come feca io non sto capendo nulla non sto capendo nulla io sto stiamo dicendo sto viaggiando stiamo dicendo cose a casaccio perché io questo sistema non lo capisco la cutscene non sono mai riuscito a rinnovinarla io ogni volta provo una cosa diversa non funziona mai quindi proviamo gli ingranaggi no guarda come sono diventato prova di editare dai fammi vedere facciamo questo ok poi mettiamo mi sto emozionando questo troppo a bravura tutta in una volta non fare la simpatica io sto sempre simpatica è una cosa che non dipende da me questo vedi questo qua è un momento è un ponte perché vedi parte uguale finisce uguale ed è un ottimo punto di passaggio cos'hai bevuto a colazione boom un po' di latte rischi guarda 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 non lo bevi il latte si è bugiardo lo so ma lo so allora vedi quella quella secondo me un po' di silenzio si sta concentrando il campione questa la prima la prima questo si perché poi chiudi con questa di giù bellissimo è perfetto e adesso ti faccio notare una cosa qua hai vedi 8 di copione 12 di recitazione 17 di effetti 8 di audio 44 di editing e non l'avamo mai notata questa cosa quindi tu con gli effettini devi mettere cose che aumentano quelli quindi noi ci miglioriamo la voce assolutamente miglioriamo il copione miglioriamo la recitazione ma quando l'hai notata sta cosa? eh qualche giorno fa non te l'ho voluto dire perché non ci abbiamo mai fatto caso li abbiamo sempre messi a casaccio esatto bravi siamo dei pro adesso è un video bellissimo e siamo pronti a pubblicarlo ciao Diana ci sta salutando che bellina ok guarda pubblica video no grazie e adesso pubbliciamo i video di loro due e abbiamo altri tre video in pubblicazione cioè belli che è successo? cos'è successo ragazzi? ma l'hai vista che ah è salito di livello hanno messo un'animazione per quando sale di livello mi ha fatto spaventare ho detto ma sta salendo in paradiso che è successo? anche io ho pensato che per un attimo fosse morto era terribile ma cosa hanno pensato con questa animazione? non lo so cioè io ho fatto lo stanno rappendo gli alieni anche io ho pensato ho detto oh mio dio hanno messo gli alieni qualcuno lo sta rappendo e non ne sapevamo nulla mi è sceso un colpo ti dico la verità le animazioni dovrebbero pensarle un po' meglio comunque guarda pronta promuovi 540 dollari promuovi 540 dollari ci mangiamo una pizza e promoviamo il video anche della 850.000 iscritti non siamo poi così lontani esatto allora guarda possiamo mettere un nuovo punto io ti dico mettiamolo qua prendi alcuni iscritti dai tuoi amici facendo apparizioni nei loro video bello cioè ma compare oppure è una cosa che possiamo scegliere non è metti il punto e lo scopriremo ok l'ho messo speriamo che sia utile promuoviamo anche il suo video ci siamo ok ci siamo mancano 10.000 iscritti lo sto mettendo a dormire per far passare no non passa neanche il tempo sono tristissima muoviti muoviti neanche li voglio vedere su 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 siamo lì 7.000 guarda 7.000 7.000 dai più iscritti più iscritti dai non funziona 6.000 6.000 6.000 basterà il video di Stere Niki o dovremmo aspettare gli altri video lo spero allora ce lo stiamo giocando qua saluti voglio farti sapere che ho creato il tuo telefono e rubato tutte le tue foto se non mi paghi 20 dollari li caricherò su internet paghiamo non voglio rischiare di perdere iscritti in questo momento sarebbe un colpo al cuore assolutamente mostro i risultati pubblichiamo il suo video dai e anche se non c'è Fostere Niki ragazzi è fatta 3.000 3.000 3.000 dai 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 attenzione 9.000 9.000 8.000 3.000 dai un milione di iscritti ce l'abbiamo fatta facciamo un selfie per festeggiare subito assolutamente scrivi io lo volevo fare con Erwin ma pazienza pazienza scatta aspetta forse Erwin ok scatta una foto e scriviamo sui social un milione di iscritti possiamo non si può scrivere non si può scrivere volevo scrivere un milione di iscritti scrivere un annuncio anche noi per far rosicare Tessa scriveselo questo selfie è venuto proprio bene pazienza pazienza almeno Tessa tanto lo sa perché sta guardando sempre il nostro canale sa benissimo che ormai siamo un milione ha comprato una bellissima sveglia perché abbiamo fatto un milione di iscritti è un bellissimo regalo bello bello si non vorrei altro ma però rimane grigio c'è qualcosa che non va beh ragazzi ci fermiamo così prossimo episodio entriamo nel network cambiamo casa e ci riprendiamo Armani quindi episodio epico in arrivo esatto che ci sarebbe voluto a manotempo invece è stato davvero davvero difficile è stata una sfida raggiungere il milione è stato davvero lentissima come crescita ma nel prossimo episodio ne faremo di tutti i colori ne sono sicura ma prima di finire il video salutiamo gli altri sei eroi del giorno che per oggi sono hai messo in pausa no si è messo da solo lascialo così Laura Yei Giugi Elia Giuseppe Love My Life Frittita questo era difficile e Shark Furio ciao ragazzi grazie per la condivisione ragazzi il video è finito così se vi è piaciuto lasciateci un bel like e se è la prima volta che vedete il nostro video potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi ciao alla prossima ciao 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 ciao